Mi chiamo Gemma Verzotti, vengo da Firenze, sono portatrice di una malattia cronica che è il diabete di tipo 1 che mi ha esploso 6 anni fa, quindi da adulta. Da lì sono entrata nel mondo dei pazienti con una cronicità. Avendo sempre fatto volontariato, sono entrata subito dopo pochi anni all'interno delle associazioni e in questa maniera partecipando a corsi di formazione che riguardavano i pazienti, sono venuta a conoscenza dell'esistenza di eupati perché mi è capitato di fare due mini corsi eupati. Benché io faccia l'avvocato come mestiere, sono sempre stata molto affascinata dall'ambito scientifico, per cui dalla molecola al farmaco era una cosa che mi aveva proprio intrigato in questi mini corsi che avevo fatto. Così ho deciso di iscrivermi a questo corso che so che è europeo ed è il primo che viene fatto in Italia. Devo dire che non pensavo che fosse così impegnativo, sia come tempo, sia come spiegazioni, che si andasse così nello specifico, che per alcuni aspetti sembra anche un mini corso di farmacologia, per cui tante nozioni molto interessanti, entrare proprio in un mondo nuovo, capire cos'è un'industria farmaceutica, lo sforzo che c'è dietro non solo delle società farmaceutiche ma anche di tutta la ricerca, degli scienziati, dei volontari, dei pazienti che provano il farmaco. Per cui proprio un mondo nuovo, una scoperta nuova che nel momento in cui uno poi acquista un farmaco e se lo tiene a casa gli dà un significato totalmente diverso. E manca per esempio conoscere il significato del foglietto illustrativo che tante perplessità ci pone. Uno va a leggere solo gli effetti collaterali, quando invece poi si comprende che gli effetti collaterali sono una minima parte, diversamente il farmaco non sarebbe entrato in commercio. Per cui tutta una realtà, tutte delle conoscenze che poterle mettere a frutto nell'ambito delle associazioni, ma anche di tutte le persone che uno conosce, è sicuramente un grandissimo valore aggiunto. C'è da dire anche di più, comprendere come tutti i professori che sono venuti a parlarci, anche loro hanno fatto un salto di qualità, capendo che avere accanto dei pazienti esperti è un grandissimo valore aggiunto anche per loro. In ogni ambito della sanità, nell'ambito dell'economia, della statistica, cioè tutti quelli che sono venuti a parlarci, hanno capito che avere questa componente all'interno dei team di lavoro è un qualcosa che porta un grande contributo. Per cui devo dire che io sono veramente soddisfatta, contenta e non vedo l'ora di avere il mio diplomino e di essere un paziente esperto.